Andrea De Cori, giovane scrittore osimano che ha avuto un grande successo per il suo primo libro, Johnny Dei. Come è nata l'idea di pubblicare questo romanzo? L'idea è nata mentre leggevo in internet la storia di Un Cacciatore d'Italia all'epoca del Selvaggio West, quindi del 1800. E poi da qui si è sviluppato tutto il racconto, insomma. Qual è la storia principale di questo racconto? La storia parla di Un Cacciatore d'Italia, Johnny Dei, che mentre segue un fuggitivo poi avrà tutta un'interazione con altri personaggi e poi qui c'è tutto lo sviluppo della storia. Cosa pensi sia piaciuto ai lettori, visto che la prima tiratura è stata già venduta tutta? Ma io credo che la storia sia piaciuta perché comunque c'è un bel intreccio, ci sono dei personaggi anche molto originali e poi è scritto in maniera molto asciutta, il messaggio arriva in maniera estremamente semplice e quindi è una lettura accessibile a chiunque. Come sei riuscito a pubblicare questo romanzo? Questo romanzo grazie a una casa editrice romana che ho trovato perché quando ho finito di scriverlo sostanzialmente l'ho spedito a molte case editrici poi mi è arrivata questa offerta di pubblicazione gratis e quindi l'ho accettata. E ora c'è la seconda ristampa, perché dovrebbero leggere Johnny Day? Perché è una bella storia, è divertente, c'è un messaggio positivo e quindi dovrebbe, insomma, chi l'ha letto è rimasto soddisfatto fino ad oggi, quindi mi auguro e spero che chi lo leggerà in futuro rimarrà soddisfatto anche loro, insomma. Oltre allo scrittore tu hai avuto un passato anche da musicista? Esattamente, da musicista momentaneamente accantonato, però, insomma, sono rimasti dei bei ricordi, è stata una bella esperienza divertente che ricordo sempre molto volentieri. Quindi possiamo dire che l'arte copre sempre più spazi? Sì, l'arte quando arriva, insomma, deve essere pronto ad accoglierla. A volte è impegnativo, scrivere un romanzo è stato impegnativo, con la musica sinceramente era più semplice, secondo me, però sempre delle belle esperienze. Hai già in mente di pubblicare qualcos'altro? Sì, di fatto anche l'editore è rimasto soddisfatto di questa prima esperienza e parlando con lui mi ha fatto capire che, insomma, lui è disponibile a pubblicare altro.